salve a tutti i paranoici e bentornati su paranoia channel questi sono cinque mostri leggendari ripresi da videocamera non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video ora cominciamo la bestia del grande lago è una bizzarra quanto leggendaria creatura che si aggira da 300 anni in un lago in svezia secondo alcuni all'aspetto di un verme gigante con grandi occhi scuri nell'agosto del 2008 è stata catturata dalle telecamere installate da un'associazione locale l'animale misurerebbe fino a 12 metri e nuota con un curioso movimento ondulatorio questo filmato girato nel 2016 nella repubblica domenicana mostra un ragno gigante delle dimensioni di una tartaruga terrorizzare dei turisti britannici nell'agosto 2016 le stazioni televisive locali dell'ohio hanno riferito che una notte di divertimento si è trasformata in un racconto dell'orrore quando due adolescenti che giocavano a pokemon go nei pressi del lago isabella hanno filmato e fotografato una rana gigante in cina un uomo ha ripreso una gigantesca creatura volante vicino al confine con il laos molti esperti affermano che si tratti di un vero e proprio drago mentre altre persone credono addirittura che la creatura possa essere un'opterodattilo sopravvissuto all'estinzione il 28 marzo 2011 alle 2 17 di notte una delle videocamere di sorveglianza del parco nazionale iosemite ha filmato due night crawler per chi non lo sapesse sono strane creature che secondo i nativi provengono dalle stelle si può chiaramente vedere che i due esseri hanno una strana fisionomia non hanno né spalle né torso le gambe sono molto lunghe e si muovono goffamente e anche per oggi è tutto se vi va lasciate un mi piace un commento e iscrivetevi al canale e veniteci a trovare sulla nostra pagina facebook trovate il link in descrizione ci vediamo alla prossima miei paranoici